Un piano sociale che deve essere ancora rivisto, ragionato, a che punto siamo? Guarda, i comuni oltre un certo numero di abitanti hanno per obbligo di legge quello di stilare un piano sociale, di verificarlo con le parti sociali e poi dopo attuarlo. Noi l'ultimo piano sociale che l'abbiamo discusso con la Giunta Celente ha una durata 2017-2018, quindi alla fine del 2018 era scaduto. L'attuale Giunta al momento ha solo prorogato il vecchio piano sociale, non sappiamo quindi né il livello di impegno che c'è stato sul territorio, e ne sappiamo le quote di bilancio che vengono destinate a questo piano sociale. In sostanza che cosa troviamo dentro al piano sociale? Beh, dentro al piano sociale troviamo tutti gli impegni dell'amministrazione per l'autosufficienza, per il sostegno al reddito e tutto quello che un'amministrazione comunale dedica per aiutare le fasce più deboli della popolazione, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista proprio di sostegno al reddito. Qual è la situazione, lo stato di salute, diciamo così, il quadro della popolazione aquilana? Beh, il quadro della popolazione aquilana, come voi tutti saprete, non è certo dei migliori, anche perché abbiamo un territorio molto vasto, diffuso sulle 19 New Town, abbiamo delle frazioni pedemontane abbandonate a loro stesse e in più una popolazione anziana che è quella che vive di più i segni della crisi. Ci siamo accorti dalle richieste che ci sono state fatte che invece adesso c'è un bisogno sostanziale di sostegno al reddito, di aiuto rispetto alla ASL, rispetto al Comune, per avere dei benefici minimi di sussistenza. Con il problema delle aree interne abbandonate a loro stessi, con la chiusura dei punti e i presidi sanitari, le persone di una certa età che molto probabilmente vivono anche da sole hanno la necessità di un aiuto. Noi con questo sportello sociale che facciamo il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 9 alle 12, cerchiamo di svolgere essenzialmente una funzione di indirizzo e di accompagnamento per usufruire ai benefici che vengono fatti dall'ASL, dal Comune e dalla Regione stessa.